è tardissimo forse non si colgherà nessuno potrebbe essere anche ovvio però le 23 e 38 stavo per andare a letto però dovevo spendere due parole per questo ragazzo questo giocatore questo mattia mattia giani 25 anni spendere due parole per i suoi genitori per fare le condoglianze ai suoi genitori e per dire che da uomo da padre da essere umano da persona che ragiona e da persona che ha il coraggio di dire quello che pensa io non riesco più accettare che mi si raccontino dalle virostar dai medici da quei personaggi politici pittoreschi discutibili che mi si raccontino che è tutto normale che mi si racconti che giovani sportivi controllati sportivi tra parentesi come questo mattia qua che era un semiprofessionista giocava in un campionato già importante mi crolla su un campo di calcio come tanti altri sportivi tantissimi ciclisti tantissimi sportivi in questo periodo non l'accetto non l'accetto perché i casi sono due o ci raccontato un sacco di cavolate e questi malori non sono normali oppure i medici della medicina sportiva sono degli incompetenti ci sono due soluzioni perché o ci raccontate un sacco di bugie e bloccano la diretta c'è un motivo o l'alternativa che i medici della medicina sportiva non sanno fare il loro lavoro quindi non ci sono tante alternative perché se tanti sportivi iper controllati che fanno ecg fanno tutto quello che c'è da fare per garantire loro una sicurezza e poter giocare con tranquillità sono vergognosi continuano a bloccare continuano a bloccare 25 anni mi raccontate che è normale e non è un 25 anni che nella vita fa una vita sregolata parliamo di sportivi ragazzi allenati ragazzi in forma ragazzi che fanno le mail le visite sportive per poter giocare avere un tesserino cioè io ho giocato a pallone ho fatto sport nella mia vita so che non si vede più ma l'ha fatto e ragazzi quando facevi sport eri controllato i medici ti facevano fare tutte le analisi del caso per garantirti di poter giocare con tranquillità e garantire alle società di avere dei giovani senza problemi ma a chi a chi volete raccontare che è tutto normale ma che uomini siete voi che dite tutto normale fate finta di nulla dov'è il coraggio dov'è il vostro orgoglio che uomini siete ma vi rendete conto che tutti i giorni degli sportivi crollano lasciamo stare il giocatore della roma avrà preso una botta quello che gli pare poco mi interessa c'è un'altra un altro ragazzo di 14 anni che è stato salvato oggi a grotta c'è adesso non so il posto ben preciso sono andato a verificare però perché hanno detto è stato colpa del caldo sono andato a vedere c'erano 22 gradi voi mi dite che con 22 gradi giocare a calcio puoi avere un collasso stare male per il caldo ma di cosa stiamo parlando ma ci prendete in giro ma pensate veramente che la gente sia tutta tonta cioè ti fanno sempre daniele brini lo conferma anche un amico daniele ti fanno le visite mediche quindi casi sono due io non do alternative o ci raccontano un sacco di cazzate questi malori qua non sono normali oppure i medici nuovi i medici di medicina sportiva non sanno fare il loro lavoro non controllano in modo adeguato prendono i soldi e non controllano i giovani non c'è alternativa entrambe le cose sono gravi vi dirò forse ancora più grave la seconda se i medici non sono più in grado della medicina sportiva di garantire che chi entra in campo che entra in un terreno di gioco sia una persona che può farlo e la domanda tu angelo non lo so se era vaccinato no ma il 90 per cento dei giocatori professionisti sono stati obbligati a fare dei giocatori di eccellenza promozione sono stati obbligati a farlo perché sennò non potevano giocare se non dire che ce la raccontiamo hanno detto che l'88 per cento è stato vaccinato sono vaccinati non è che hanno vaccinato tutti quando gli interessava raccontare che tutti si sono vaccinati a parte qualche novax e qualche bambino siamo onesti hanno detto che erano tutti in italia 85 per cento vaccinati quindi sono vaccinati è matematico è matematico salvo che prima non ci abbiano raccontato un sacco di balle dicendo che erano tutti sottomessi e poi è inutile che continuate a bloccarla diretta perché queste cose le dirò domani in tv le dirò domani in tv e vi dirò mi hanno pure bloccato di nuovo e lo farò perché adesso la trasmissione la stiamo affinando ma arriverà ad essere perfetta siete veramente veramente patetici e uomini senza palle abbiamo un popolo italiano i miei coetanei ragazzi hanno hanno sono sottosviluppati a livello di a livello di attributi di coraggio non sono più non hanno più un minimo di dignità ma che ragazzi abbiamo fatto tutti ragazzi e ragazzi abbiamo fatto tutti sport da giovani tutti la medicina sportiva serviva per controllare le persone i giocatori garantire agli sportivi di andare in campo praticare uno sport in modo tranquillo questi crollano di infarto i casi sono due lo ripeto e con questo chiudo con questo chiudo che il primo caso ci raccontino un sacco di balle e non c'è nulla di normale se però fosse normale come dicono come ha scritto oggi quel giornale di quel ragazzino di 14 anni colto da malore salvato in campo per il caldo grotta cene c'erano 22 gradi cioè voi giornali siete veramente la cosa indegna ragazzi colto per il caldo con 22 gradi ma chi volete prendere in giro ma cosa pensate che siamo dei tonti sì ci sono tanti tanti c'è veramente una cosa indegna e soprattutto chi fa finta di nulla chi accetta le loro bugie mamma mia ragazzi come si fa accettare le loro bugie in silenzio ma sono i nostri figli i nostri nipoti che ci stanno rimettendo le penne cioè veramente ma mogli donne mamme nonne svegliate gli uomini svegliateli perché questi qua stanno 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 dormendo oppure sono diventati dei codardi ma dei codardi 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 perché di fronte all'evidenza non si può far finta di nulla di fronte all'evidenza non si può far finta di nulla devo stare in diretta tre ore perché le notifiche le mando dopo venti minuti ditemi sei normale facevo cinquemila collegati ne faccio centocinquanta adesso perché perché non vogliono che apri che le persone come me aprino gli occhi alle persone facciano capire le persone qual è la verità cioè sono talmente tanto talmente tanto ingenui i nostri i nostri capi che non hanno capito che la gente che la gente lo capisce anche se robi giusti lo bloccate che ci state prendendo in giro 14enne colpa del caldo ma va a caghera colpa del caldo con 22 gradi ma fate ridere ma fate non siete giornali voi poi mandate bene a fare differa di a smistare la differenziata la carta dal cartone questo è il massimo che massimo della carta che mi do in mano è quella c'è quest'altro ragazzo qua gianni 25 anni iper controllato uno sportivo eccellente ma ragazzi ma di credete io ve lo chiedo a voi qualcuno di voi crede veramente a questa gente c'è qualcuno che crede a questa gente ci siamo veramente al punto che qualcuno crede ancora a questa gente quando speranza ha messo ha dovuto ammettere perché i giudici l'hanno obbligato a tirar fuori la verità che il 20 per cento possono essere reazioni pericolose delle reazioni il 20 per cento da quello che ho capito sono è venuto fuori la verità cazzo ma perché non pubblicate voi faccechere le fake news che pubblicavano draghi speranza quella gente lì perché non tirate fuori quei vecchi video li pubblicate con scritto fake news perché non fate veramente il vostro lavoro cioè non vi auguro nulla e non vi auguro nulla però se se vi siete sotto me se vi capita non è ogni dubbio è lecito c'è veramente che vergogna ragazzi che vergogna che triste ragazzi che tristezza amici adesso ce ne andiamo a letto e prima di dormire vi chiederei un una preghiera per tutti i giovani che si sono sottomessi una preghiera per tutti che dio li risparmi perché il dubbio è più che lecito che ci sia qualcosa che non va bene e i servi dei padroni quando capirete che state facendo della servi sarà troppo tardi perché prima o poi servi appena non servono più appena non servono più vengono scaricati e per loro non c'è più speranza e non speranza la speranza veramente triste veramente triste uomini dove siete finiti uomini dove il vostro orgoglio l'orgoglio degli italiani dov'è dov'è finito uomini italiani coraggiosi coraggiosi servi coraggiosi ciao a tutti buonanotte grazie